istruzione e formazione riassumendo concetti già espressi in precedenza istruzione e formazione non sono la stessa cosa sono entrambi importanti anche se la formazione è quella più difficile da trasmettere quindi più ignorata dall'attuale sistema scolastico ma allo stesso tempo più utile nella vita quotidiana quello che dovrebbe fare la scuola è formare i giovani e anche i meno giovani ad essere più determinati nel raggiungimento dei propri obiettivi più collaborativi con il prossimo e capaci di motivare gli altri e di automotivarsi indipendentemente dalle nozioni imparate saranno in grado di vivere autonomamente di realizzarsi oggi invece la scuola sembra semplicemente più intenzionata a riempire gli studenti di nozioni senza pretendere nulla di più che un apprendimento mnemonico come già analizzato le ore che gli studenti passano a scuola sono considerate ore di lavoro e conteggiate a fini pensionistici secondo un coefficiente direttamente proporzionale al rendimento le lezioni saranno molto pratiche e dinamiche gli esami per verificare l'apprendimento delle nozioni saranno svolti in forma di sfida più come un quiz che come un'interrogazione per sfruttare appieno l'effetto dell'adrenalina del fissaggio dei ricordi saranno previste molte uscite e gite per aiutare i ragazzi a socializzare e conoscere il mondo e a rendersi autonomi grande importanza sarà data alle attività sportive utili per formare il fisico e il carattere ad ogni età saranno affiancati psicologi e motivatori con competenze specifiche per l'età degli studenti per i compiti a casa sarà data massima autonomia agli studenti stessi per gli studi dei minorenni il ruolo dei genitori sarà fondamentale ognuno di loro sarà chiamato a valutare insieme agli altri a quali insegnanti affidare i propri figli per una buona riuscita degli intenti della scuola anche i genitori devono essere responsabilizzati quindi ogni insegnante dovrà avere l'approvazione sia del padre che della madre dell'alunno che ne valuteranno l'esperienza le capacità di comunicazione coinvolgimento e anche l'etica personale professionale le classi non saranno molto numerose perché in piccoli gruppi si ottengono risultati più velocemente la soglia di attenzione rimane più alta e il lavoro è meno dispersivo saranno invece molto accentrati gli istituti scolastici non solo per motivi di carattere ambientale legati ai trasporti ma anche perché in luoghi molto frequentati è più facile trovare occasioni per allacciare rapporti sociali gli insegnanti a loro volta avranno dei turni leggeri le loro lezioni non dovranno superare le due ore e tra una lezione e l'altra faranno una pausa indicativamente di un'ora per non sovraccaricare la loro pazienza provocando così un calo di rendimento che si ripercuote sugli alunni saranno inoltre soggetti a continua valutazione da parte dei genitori e occasionali test di gradimento da parte degli studenti avranno il diritto di suggerire spostamenti di alunni in altre classi o altri indirizzi qualora la loro presenza fosse motivo di continua distrazione o si verificassero episodi di bullismo o grave insubordinazione avranno il diritto dovere di tenersi costantemente aggiornati e commissioni di esperti terranno monitorato il loro operato intervenendo il loro aiuto qualora emergesse che stanno facendo errori in qualche metodica o in qualche argomento in particolare se il rendimento dei loro alunni è sotto la media una buona istruzione e una buona formazione sono fondamentali quindi non vanno lasciata al caso quasi sottinteso in questa società ideale ma non in quella attuale purtroppo che gli insegnanti non avranno solo una buona preparazione ma anche la passione per l'insegnamento e per la materia che andranno a insegnare ma anche la passione per l'insegnamento e per la materia che andranno a insegnare